Ma è giunto il momento di dare la linea a Sor Maria Vittoria che come detto ci accompagnerà a scoprire oggi il suo ordine, quello delle Apostole di Gesù Crocifisso. A te Sor Maria Vittoria. Buongiorno Tony, grazie di avermi dato la possibilità di questa presentazione. Ecco, ci troviamo davanti alla Casa di Formazione delle Suore Apostole di Gesù Crocifisso, di cui io faccio parte. L'ordine è stato fondato da Don Domenico Laberarte, figlio spirituale di Padre Pio. Ecco, vi invito, prego. Don Domenico Laberarte lo faremo attraverso una chiacchierata, la chiacchierata che tu farai con la Madre Superiore. Allora, entriamo nella vostra casa a San Giovanni Rotondo, eccoci accoglie questa bellissima foto di Don Domenico inginocchiato davanti a Padre Pio. Andiamo a conoscere la Madre Superiore del vostro ordine, Sor Maria Vittoria. Questa è la nostra cappellina, dove abbiamo un piacere di accogliervi e presentare la nostra Madre Superiore Generale dell'Istituto. Lei è anche la prima suora e confondatrice del nostro istituto. Benvenuti in questa nostra casa e soprattutto nella nostra cappella. Qui è il nostro padrone di casa, è Gesù il nostro Signore. E qui si svolge gran parte della nostra vita quotidiana. Sin dal mattino presto ci raduniamo qui per pregare, contemplare e accogliere la grazia di Dio che ci viene elargita da nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, adesso ci spostiamo magari nel salone così facciamo qualche domanda alla Madre al riguardo del nostro istituto. Con molto piacere. Prego. Grazie, grazie Sor Maria Vittoria. È il tempo di salire al piano superiore perché so che la cappella è nel piano inferiore. Una volta che vi siete accomodate ti lascio l'onere e l'onore di intervistare la tua Madre Superiore dell'Ordine delle Apostole di Gesù Crocifisso, come detto fondate da Don Domenico Labellarte proprio a San Giovanni Rotondo e grazie ecco anche alla protezione, potremmo dire così, all'ispirazione di Padre Pio di cui Don Domenico Labellarte era figlio spirituale. Carissima Madre, il Signore ti ha reso strumento nel scrivere questa storia del nostro istituto. Ci vorresti raccontare come è cominciato tutto, come hai conosciuto Don Domenico e come ti sentivi in così tenera età a cominciare a scrivere questa storia per noi? Beh, veramente ogni storia non nasce così all'improvviso. È sempre una preparazione che il Signore ha compiuto nella mia vita sin da piccolina. Quindi già da bambina piccola e soprattutto durante il periodo di catechismo della prima comunione ho incontrato veramente Gesù. Tant'è che pensavo alla vita dei santi, se loro sono diventati santi, perché io no? E poi come è avvenuto? Volevo partire subito, volevo realizzare subito la mia vocazione, ma questo non era possibile all'età di nove anni. Anche parlandone con il frate confessore. Poi, più tardi, durante la scuola media, ho incontrato prima ancora, durante la scuola elementare, il nostro padre Don Domenico, che veniva a fare religione a scuola. E poi anche Don Giustino Rossette, che è stato il mio professore di religione nella scuola media. E' stato lui che ha individuato il disegno di Dio nel mio cuore. E quindi poi si è dato da fare, perché questo disegno poteva essere realizzato. Ma non era possibile, perché ero ancora minorenne, molto piccola. Però una volta che il padre ha saputo questa cosa di me, ha cercato di mandare qualcuno a chiamarmi a casa mia. E quindi poi da lì è nato tutto, perché il padre, comunque Don Domenico, non è che ha pensato all'improvviso di fondare un istituto. Anche lì c'è stato tutto un cammino, un processo che Dio ha compiuto nel suo cuore, sin da quando era studente nell'Almo Collegio Capranica, che ha avuto l'ispirazione proprio dinanzi al quadro della Madonna e di Sant'Agnese. Un'ispirazione ad elevare la vita sacerdotale, a impegnarsi per la comunione nella Chiesa e a formare delle anime che potessero collaborare con il sacerdote. Però tutto questo non poteva essere realizzato così da solo. E' stato l'incontro con Padre Pio. Da lì è nato tutto. Madre, ma io vorrei chiederti ancora un'altra cosa. Tu quanti anni avevi quando hai cominciato questa storia d'amore, diciamo? Io quando ho detto il mio sì, avevo 16 anni. Ma quel sì è stato preparato qualche mese, un mese prima, due mesi prima, da un sogno che ho fatto. Perché io volevo fare qualcosa per Gesù. E quindi questo sogno l'avevo fatto all'inizio di gennaio, dopo una preghiera intensa, il giorno del mio compleanno. Signore, fa che il prossimo anno segni qualcosa nella mia vita. E poi c'è stato il sogno di Gesù, che ho camminato con lui e sarebbe bello raccontarlo, però forse non manca tempo. Perché c'è un'altra domanda che voglio farti. Ma tu hai avuto la paura di cominciare qualcosa che non era ancora, non aveva la stabilità, era una cosa che cominciava a nascere. Avevi delle paure, delle perplessità. Questa paura l'avevano i miei genitori, perché ero intanto minorenne, a quel tempo si diventava maggiorenne a 21 anni. Però io quando ho saputo che il padre voleva fondare un istituto religioso denominato Apostole di Gesù Crocifisso, io ho detto subito di sì, perché già Gesù Crocifisso stava nel mio cuore. Avevo devozione per Gesù Crocifisso e quindi quando ho sentito questo ho detto subito sì. Ma non una volta, l'ho detto tre volte, forse inconscientemente e con semplicità. Nell'amore è così. Madre, ancora un'altra domanda ai nostri spettatori che ci guardano adesso. Ma come mai questo nome, Apostole di Gesù Crocifisso, cosa sta dietro questo nome? Ecco, dobbiamo ricollegarci alla spiritualità di padre Pio. Il padre ha assorbito dall'età di 21 anni fino alla fine tutta la spiritualità del crocifisso, della passione di Gesù. Prima ancora di essere sacerdote, aveva chiesto a padre Pio come mi posso preparare per il suddiaconato. E padre Pio gli aveva dato il libro della passione, quello che meditava lui. Dice figlio mio, medita questo. Ecco, tutto è cominciato di lì perché il padre aveva dinanzi a sé un crocifisso vivente, che era padre Pio, che sapeva amare Gesù e sapeva offrire le sue sofferenze, non tanto per sé, ma per aiutare e sollevare Gesù e tutti i crocifissi del mondo. E quindi per fare questo, apostole vuol dire essere mandati. Intanto imparare ad amare Gesù, perché come si fa ad imparare ad amare Gesù? Ecco, con la lezione divina, con la parola di Dio, meditate ogni giorno perché ci aiuti a cambiare mentalità e poi piano piano, ecco, accogliere la sua volontà. E questa volontà di Dio che diventa poi dono per gli altri, quindi farci prossimi e quindi vivere la misericordia, l'ascolto, l'accoglienza, il sollievo della sofferenza. Da chi si impara tutto questo? Dal Gesù crocifisso, che è il libro sì di giustizia ma anche di amore, di misericordia. Ma concretamente potresti dirci qualche cosa, noi abbiamo la missione nelle Filippine con il centro per i bambini, potresti dirci qualche cosa perché è un'opera concreta che negli anni abbiamo realizzato, ecco, di quello che tu stai dicendo, Gesù crocifisso, ecco, sollievo della sofferenza più bisognosa. Sì, va bene, la nostra missione che parte già, ha voluto partire la missione estera da Betlemme. E sì, prima di tutto noi siamo niente, siamo umili, vogliamo imparare l'umiltà da Gesù bambino. E quindi la nostra missione è iniziata lì, dove le suore non solo hanno insegnato, ma si prendono cura anche dei bambini, poveri, abbandonati. Ma poi la missione vera e propria è stata compiuta nelle Filippine. Da Manila, dove siamo stati invitati da Monsignor Ramirez, e poi ci siamo spostati a Davao, dove l'arcivescovo allora di Davao aveva conosciuto Padre Pio e ci aveva pregato, supplicato, di aprire la missione lì a Davao. Che tu personalmente sei andata all'avventura proprio, che non è che era tutto pronto lì, no? Eh sì, è costato veramente sangue quella missione, tant'è veramente sangue, perché quando portavo i soldi di un nostro benefattore italiano per costruire la casa per i bambini, ho avuto un incidente proprio la notte di Capodanno, il 31 e l'1. Un incidente stradale che aveva colpito solo me, e quindi sono stata operata e così via. Però ecco, il Signore alla fine ha trionfato ed è una bellissima realtà. Sia con i bambini, il centro dei bambini che abbiamo denominato Casa Padre Pio, e poi abbiamo una cittadella, secondo sempre il disegno del nostro padre, è una cittadella della misericordia, dove accogliamo i poveri che hanno bisogno di essere curati, quindi facciamo la medical mission mensilmente, e poi ci prendiamo cura dei bambini poveri, curiamo tutti quelli che vengono, e poi coltiviamo anche il terreno, quindi educhiamo anche i fanciulli, i ragazzi al lavoro, quindi alla cura della terra, gli animali, le piantagioni, ecco, tutto questo fanno le suore, non solo per mantenersi loro, ma anche per dare aiuto ai poveri. Bello, grazie madre per questa bella intervista, veramente. Un'altra domanda così, se per caso una ragazza si affaccia qui e chiede, magari, tu cosa avresti offerto con me il nostro carisma? Beh, innanzitutto, questo è un carisma speciale, particolare. Che può spaventare solo il nome, l'apostolo di Gesù Crucifisso, quando uno sei l'apostolo di Gesù Crucifisso, però, ecco, innanzitutto vorrei conoscere e quali sono le sue motivazioni, perché, chiede, ecco. Se c'è un amore grande, grande per Gesù, e c'è un amore per gli altri, e per sollevare le sofferenze altrui, se c'è un amore a Gesù Crucifisso, perché non ci può essere amore a Gesù senza il dono di sé per gli altri, allora, ecco, le aiuterei in questo cammino a scoprire se stessa e poi a vedere se può vivere questo nostro carisma. Grazie madre, grazie a te e grazie a voi tutti, ai quali chiedo una preghiera per noi, perché possiamo essere fedeli a Gesù fino alla fine, testimoniando il suo amore. Se tu dovessi dire qualche cosa ai nostri telespattatori, cosa avresti detto, augurato, hai qualcosa da dire? Avrei augurato di camminare con Gesù, perché è bello. Ecco, è arrivato il momento di restituire la linea a Tony, e ti ringraziamo madre per questa intervista e salutiamo tutti i nostri telespattatori. Alla prossima. Grazie, grazie a te, Sor Maria Vittoria, davvero una bellissima chiacchierata con la madre superiore, madre Maria Saveria, che ringraziamo per la disponibilità, per averci fatto conoscere questo bellissimo mondo delle suore, apostole di Gesù Crucifisso. Tra l'altro ecco, mi piacerebbe approfondire anche la figura del fondatore Don Domenico Labellarte, vediamo se ci sarà possibilità di farlo settimana prossima.